a facebook buongiorno a tutti oggi qua con noi in studio per parlare per il punto della situazione sui bonus e non solo perché c'è anche la fibra ottica importante che riguarda i condomini e quindi ci amo con gabriele tagliabuo il presidente di gesticond buongiorno gabriele ben ritrovato c'è anche davvero presidente il vice buongiorno caro davide buongiorno che allora che cosa cerco la fibra ottica dicevi che stanno interessando anche i condomini molti condomini interessati da fibra ossia allora no è una diciamo un appello devo fare due cose che ci devo dire non so potete vi siete accorti anche voi la città in questi ultimi mesi è piena di buchi perché stanno posando la fibra ottica sono più società più imprese che tagliano l'asfalto e posano la fibra ottica come funziona mettendo giù i tubi li collegano negli atri dei condomini cioè portano il filo fisicamente fin dentro la porta del condominio mettono la predisposizione e poi tu col tuo abbonamento della tua compagnia ti cerierai ti collegherai la casa tua a quella diciamo centralina chiamiamola così questo perché è importante perché uno buca la strada e ci rallentano il traffico già come non è il massimo della vita e più rischiano entrando nei condomini di creare dei danni sfruttano i tubi che ci sono luce nel telefono eccetera però a volte non rompere qualcosa questo lo dico per dirvi una cosa importante questi hanno la possibilità di farlo per legge quindi sostanzialmente non possiamo fargli niente noi possiamo solo agire per ridurre i danni cioè intervenire prima che loro entrino per capire che lavori devono fare ed evitare che ci creino danni più grossi perché comunque sono tenuti a ripestinare ogni problema ogni danno ok quindi ok però è anche fondamentale gabriele questo è un intervento importantissimo è chiaro che però devi cercare di cercare di mettere d'accordo tutte le cose tra cui ecco quello di non non creare più disagio del dovuto esatto una cosa però è bellissimo loro lo fanno per legge è anche una cosa che nel 2022 è utile sicuramente per tutti devo chiedere permesso però io l'ho trovato tra i condomini nelle proprietà privata dentro che mattellavano tagliavano no ecco perché questa è una cosa incredibile adesso oggi dobbiamo parlare dei bonus fare un po' il punto dei bonus però adesso questa cosa sta prendendo il sopravvento vedo che molti stanno scrivendo tutti adesso vi saluta massi zeus buongiorno massi ciao annamaria buongiorno ciao a clara buongiorno un saluto anche a dario corrado e non agnese annamaria buongiorno allora oggi si parla di condomini in questo nostro approfondimento e di questo problema della problema della fibra ottica che non è un problema esatto una bellissima cosa ottima cosa solo che è stata gestita un pochino va gestita un po' superficiale questa cosa del fatto che trovi dentro gli operai mi chiamano Nicola ma scusi lei ha mandato l'operai ma come è possibile come è possibile questa cosa a dargli scusami queste aziende qua che hanno in mano l'appalto sono testa bassa e devono correre ho capito testa bassa e devono correre però ma come diceva giustamente Gabriele loro sono tuttati dalla legge perché devono poterlo fare possono possono entrare e devono mettere questa cassetta qua all'interno del condominio il problema è che non avviso ma ecco scusami ma è doveroso è prima di fare questo intervento fare una comunicazione a voi amministratori ma direi che per logica Gabriele però Gabriele ha fatto il vice il presidente che litigano questa cosa l'avevo approfondita molto bene con la confedilizia allora intanto c'è un errore giusto perché siamo sotto elezioni lo dico per alcun tipo di problema c'è un errore di base da parte del comune perché è obbligatorio per legge che prima di cominciare con gli accessi dei singoli immobili se c'è un accordo con il comune di pertinenza in questo caso è comodo se l'hanno fatto a non è stato detto niente se l'hanno fatto a noi non ne sappiamo niente quindi bastava amministratori noi amministratori siamo sempre quindi bastava che l'ufficio tecnico chi per essere il comune fatto questo accordo ci mandasse una mail all'associazione dicessi ci troviamo domani mattina e vi spiego che cosa dobbiamo fare ok 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 ecco perché il primo passaggio da quello che me lo ricordo benissimo dopodiché il passaggio successivo fatto l'accordo con il comune è l'accordo con l'amministratore del condominio molto spesso non si sa qual è l'amministratore del condominio perché non sempre c'è una carchetta o non c'è stata una comunicazione adeguata ma è colpa anche delle ditte bastava chiamarmi e la mia associazione l'attivavo io sono qui per questo se no cosa faccio faccio il presidente di che cosa allora a volte l'ho scoperto passivamente loro scopono chi sono gli amministratori scrivono delle mail a volte noi non magari non ci fidiamo perché se mi scrive uno che non so chi è mi dice dove tratti il condominio non ti faccio entrare e poi loro fanno il lavoro lo stesso come dice davide oppure non avvisano non avvisano neanche dipende ci voleva un po più di un gestire un po meglio questo passaggio comunica sì una cosa un po più esatto allora adesso ormai la fiber ottica la sanno tutti che c'è l'open fiber alcuni hanno già attivato anche ovviamente quindi è un po più semplice la gestione ma un anno e mezzo fa nessuno lo sapeva è una cosa nuova infatti è vero vero questa cosa non mi erano preoccupati perché vedevano tracce fatti è uno dei problemi che è incredibile salta fuori così perfetto allora poi adesso facciamo anche il punto sui bonus veloce marinella buongiorno jack normativa prevede che ci sia comunicazione all'amministratore che deve comunicare con i condomini si tratta pur sempre di proprietà private giusto certo però ti basa tutto sulla normativa insomma contro l'amministratore poi l'amministratore comunica informe condomini esatto esatto mancava il passaggio esatto tra l'open fiber o chi per essa all'amministratore l'ultimo miglio per così dire sì ma ripeto ma perché tutto sempre non ripeto sempre le stesse cose manca sempre il solito problema c'è una sorta di riconoscimento ufficiale della nostra figura perché visto che non c'è un elenco non c'è un albo non c'è niente tutto è fatto a livello molto amatoriale è vero vero per cui tu sai quante sono le associazioni dell'amministratore di condominio io non ho che sono 40 non mi ricordo più no so che sono un numero ma come siamo fortunati perché salvo problemi siamo in due noi e la concorrenza quindi è facile ma in generale non c'è un elenco per cui non è che puoi dire citiamo la concorrenza anche perché non citarla scusa non c'è una macchina se non c'è un elenco non c'è una cosa delle associazioni riconosciute uno che fa questo lavoro come loro poi i nipo sono anche capirli dove li vanno a prendere molti che ci stanno dicendo che in effetti da questa comunicazione è fondamentale questa cosa che avete detto voi oggi ragazzi avete sollevato un problema di grande attualità e se dovesse rompere qualcosa e se dovesse rompere qualcosa loro sono tenuti a ripristinare qualsiasi cosa che danneggiano il problema è che come tutte le ditte del mondo rompono e poi quando tornano a sistemare magari dopo un mese mi è successo la recente non è soltanto il tuo tuo del acqua non è soltanto il tuo del condominiale ma anche l'estrata privata dove sono entrati e hanno fatto una bella cicatrice rossa perché poi l'asfalto era rosso lo ripristiranno penso proprio di sì ma quando? ma rimane cicatrice comunque una strada che è andata asfaltata 5-6 anni fa un disastro in condominio perché mi ha speso tanti soldi per farla ma mi trovo una strada devastata allora per chiudere Gabriele e Davide ripeto gli amici di Gesticond Como che sono qua e oggi in effetti quasi casualmente abbiamo però sollevato un problema che vedo è importante attuale anche molto attuale che sta avvenendo proprio in questo periodo facciamo il punto anche sui bonus adesso passiamo i bonus dopo poi magari ci ritroviamo nel pomeriggio perché dalla settimana prossima la nostra programmazione sarà diversa al mattino ci saranno solo i politici comunque gli amministratori di condomini devo dire che sono sempre molto interessanti per gli argomenti e la varietà di argomenti che poi vengono qui a trattare allora i bonus Davide abbiamo qualche novità? no, novità in realtà grosse non ce ne sono novità sono che stiamo incominciando a vedere in città Como e anche intorno un po' più di cantieri quindi ciò che era partito un anno e mezzo fa sta dando un po' qualche frutto superato lo scoglio gigantesco io direi bilanciando quasi tutti i condomini che è stato l'adeguamento urbanistico in comune quindi perché ovviamente erano molte case erano difformi da quello che era in comune quindi superato questo scoglio quasi superabile da tutti adesso incominciamo a vedere un po' di lavori in essere le difficoltà adesso come era già previsto e ipotizzabile qualche tempo fa sono i prezzi delle materie prime che stanno continuando incredibilmente a crescere e si è messa anche purtroppo la guerra che sicuramente la mano la dà e l'approvvigionamento materiale perché questo qua è un altro problema che i tempi, le tempistiche si stanno allungando proprio perché manca serramenti, manca vetro, manca il ponteggio, quello si sapeva quindi manca proprio il materiale dentro questo stiamo andando avanti comunque però ecco questo è il problema che va a incidere purtroppo inevitabilmente sui tempi perché tutta questa carenza e manca per tutto, per i condomini ma manca anche per le opere pubbliche le strade, gli interventi anche pubblici, cioè è una situazione generalizzata Davide giusto? Certo ma in tutta la filiera ormai i ritardi ci sono perché se manca una batteria prima di un qualcosa poi tutto il resto poi a parte che si concentra molto sull'edilizia adesso quindi tutte le altre categorie sono un po' più tralasciate il fatto dei ritardi causa, a parte diciamo nervosismo a livello condominiale perché amare c'ho un mezzo ponteggio montato, c'ho il materiale già una parte già lì in condominio e non vanno avanti in condominio ma perché riguardi il disagio ma poi anche costi, anche costi perché io posso capire le imprese che hanno del materiale lì nel mezzo ponteggio montato che gli costa e non possono andare avanti col lavoro però diciamo che ormai questa fase si sta piano piano superando quindi sono quelli che sono partiti che non male stanno andando avanti con i loro tempi e speriamo nei prossimi mesi di vedere qualcos'altro di attivo in città perché effettivamente è un buon'opportunità per Como e per l'Italia di riqualificazione patrimonio del territorio Gabriele ricordiamo anche due date importanti per quanto riguarda i bonus ci sono dei termini vero, giusto? Sì, però lui se li ricorda meglio E allora Davide... Su queste lui cerca proprio... E allora ripeto, perché non fa presidente lui? Scusa... E perché... E perché ne piace accumulare le cani? Scherzo presidente, scherzo Allora, il bonus facciata è confermato a 31 dicembre di quest'anno Ok, quindi per le facciate entro fine anno Sì, salvo prorogo chiaramente Sì, però è difficile per... Esatto Quindi il lavoro deve finire entro il 31 dicembre del 2022? No, il tecnicismo è che il pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre del 2022 Esatto, però il lavoro... Il lavoro può essere terminato anche dopo Diciamo che è un po' una... Ok, ok Ok, ok Però a volte è anche comodo E invece il bonus del 11% è confermato 31 dicembre del 2023 Ok Quindi fra un anno e mezzo Che è dopo domani E quindi è veramente molto vicino Beh, sono Eh sì Sì, perché è quello che inizia comunque È l'opera 31 dicembre del 2023 Salvo prorogo anche di quello Però anche di qua Anche per questo si pensava poi Cioè si leggeva Che vorranno prorogarlo Ma con delle liquide differenti Quindi ci riesci a scendere a... Ah già, per il rischio proprio Sì, salvo appunto Diversi indicazioni Ecco, queste sono le due indicazioni Dal punto di vista proprio della... Per i condomini Per i condomini Per i milletti è un altro discorso Perché c'è il 30 di giugno di quest'anno Il 30% Ecco, no Spiega un attimo ancora velocemente questa cosa Perché per fare il più Questo che abbiamo detto Riguarda solo i condomini Il mondo condomini Che voi gestite al meglio Il vostro mondo insomma Quello dei condomini No, per i dati privati invece C'è un termine Di il 30 giugno di quest'anno Esatto 30 giugno, giusto? Quindi devono essere Tre mesi Anzi, due mesi Assegurati almeno il 30% dei lavori Per poterli poi ultimare Quindi entro il 30 giugno Deve essere stato fatto Almeno il 30% Asseverato Quindi poi l'asseveratore Asseverato Traducilo in italiano L'asseveratore è questa figura Nata Con il super bonus Che serve per certificare Effettivamente C'è lì la realtà Quindi c'è un professionista Che mette la firma È un tecnicismo anche linguistico Però così asseverato Va bene Gabriele Se ti chiudi tu Allora Ricordando anche Di questa cosa Della fibra Perché vedo che molti Ecco Se uno vede Che gli arrivano Gli operai Non sparategli E non insultateli Giusto Gabriele? Giusto Fammi chiedere su una cosa Di problemi che ha citato lui Un'ultima cosa Non si trova più Un muratore Per riparare un tubo Questa è una conseguenza negativa Che lui non ha citato Non si trova un muratore Un muratore per fare una riparazione C'è un problema Che lui non ha citato Ma perché non riguarda Il lavoro straordinario in sé E che l'economia è Ah beh Quindi se tu domani Hai bisogno Di rifare il bagno Mi sa che non trovi Nessuno che lo fa Ecco Molto difficile Molto difficile No poi magari lo trovi Però con molta difficoltà Ecco questo è un altro Aspetto dei bonus Che non riguarda Direttamente i lavori Ma che lui non ha citato E per noi è importante Perché noi viviamo Di manutenzioni Cioè viviamo Il nostro lavoro È una parte Organizzare manutenzioni ordinarie E il condominio Se non le fai Cade Quindi bisogna Certo È un problema Anche questo è un problema Anche questo è un problema Molto grosso No decisamente sì Quello che ti ha chiamato Anche la riparazione Più banale Diventa un problema Quello che ti ha chiamato prima Io gli hai saluto minacciare Per andare a prendigli Io venia a fare Una certa manutenzione Programmata da tre Eh guardi che te ne Ho visto il nome Lo conosco Vabbè però Ho capito Ho visto il nome Lo conosco anch'io Allora Facciamolo vedere Allora Attenti a questi due Dice Clara Eh no Sono simpatici Clara eh Buongiorno a voi Intanto grazie ragazzi Grazie di essere rimasti con noi Marinella Mimma Paola Buongiorno Corrado Tanti amici Anche oggi Perché Quando arrivano Gli amici di Gesticond Loro ci portano Dei temi di grande attualità Oggi dobbiamo parlare In realtà dei bonus Però poi abbiamo Sconfinato anche Nella fibra ottica Allora Ci rivediamo Tra qualche settimana Ma in una fascia oraria diversa Se potrete Nel pomeriggio E se no Altrimenti più avanti Intanto grazie ragazzi Buon lavoro E buona mattinata Ciao Grazie Buongiorno Grazie a tutti